Non ne abbiamo parlato inizialmente perché l'altro giorno ero a Milano per giocare Milan-Juventus e quindi non ho avuto il tempo materiale perché poi al mio rientro c'era un'altra partita e quindi lo facciamo oggi e attraversiamo anche un altro discorso relativo agli infortuni di due calciatori argentini che vabbè ci arriviamo, intanto buona domenica a tutti, giorno di cresime almeno personalmente quindi adesso tra poco mi preparerò per andare a messa in chiesa per una cresima e stamattina ho avuto anche un risveglio abbastanza turbolento con un trapano alle 8 di mattina esattamente sotto la mia camera da letto quindi spero che la vostra domenica sia partita in modo migliore rispetto alla mia oggi voglio parlare insieme a voi del rinnovo di contratto di Bonucci, dell'infortunio di Maria e di quello di Paredes perché ieri c'è stata un po' di polemica a riguardo intanto il 19 novembre 2019 quindi con la Juventus nella gestione Maurizio Sarri anche a livello di tempistiche siamo lì perché lì era un po' più di metà novembre adesso siamo praticamente al fine di ottobre quindi questa è la finestra temporale in cui la Juventus inizia a decidere come muoversi per quanto riguarda i rinnovi, beh 19 novembre 2019 Leonardo Bonucci rinnova il suo contratto con la Juventus fino al 2024 era in scadenza al 2023 tra l'altro fa ridere leggere che Bonucci all'epoca 2019 siamo nel 2022 quindi tre anni fa diceva sarò contento se in bacheca al termine del mio contratto ci sarà anche una Champions League beh sentirla oggi una frase del genere sembra la più totale utopia anche perché siamo all'antivigilia di una gara di Champions col Benfica che io ritengo estremamente complicata ma proprio io proprio ve lo dicevo anche l'altro giorno ho il terrore di tornare a casa con tanti gol subiti cioè non di pareggiarla non di ho paura della disfatta totale perché il Benfica ci ha fatto vedere di essere due spanne superiore a noi e in trasferta noi siamo disastrosi non vinciamo lontani da Torino da ottobre perché è l'unica vittoria che abbiamo fatto scusate da aprile perché l'unica vittoria che abbiamo fatto in trasferta quest'anno è stata ottobre ma a Torino contro il Toro nel derby e quindi lontani da Torino non vinciamo da da oltre sei mesi e sicuramente il Dalus sarà uno stadio molto caldo e Benfica sarà una trasferta molto complicata perché stanno facendo vedere delle ottime cose e noi siamo veramente appesi a un filo abbiamo il dovere di dibattere sia PSG che Benfica e sperare che il Maccabi possa fare un regalo quindi siamo veramente su livelli quasi di atto di fede anzi siamo su livelli di atto di fede perché serve un miracolo miracolo sportivo nel vero senso della parola è inutile girarci intorno quindi ho decisamente paura per quella che sarà la sfida di martedì e temo veramente che la Juve possa comunque fare una figuraccia e Bonucci tre anni fa parlava di Champions perché tre anni fa era un'altra situazione era ancora la Juve di Ronaldo era una Juve che veniva da otto campionati vinti veniva da un quarto di finale perso con la X l'anno prima si preparava a stravolgere completamente la storia anche nostra non solo dello sport e cioè una pandemia che culmina con il nono scudetto consecutivo ma anche con un'eliminazione agli ottavi contro il Lione e una nuova giravolta di panchine l'ennesimo cambio a fine anno con Maurizio Sarri che viene esonerato viene allontanato dall'incarico anche da campione d'Italia in carica il nono scudetto consecutivo nonché l'ultimo di questa cavalcata c'era bisogno di rinnovare Bonucci fino al 2025 dato che il contratto ad oggi è in scadenza al 2024 secondo me bisogna guardare la più punti di vista se penso dal punto squisitamente sportivo vi dico di no non ne vedo la necessità non mi pare una priorità non scade al termine di questa stagione sportiva ce n'è tutta un'altra e quindi no non vedo perché soprattutto se ragiono anche sugli altri componenti difensori centrali della rosa bianconera Bremer appena acquistato quindi dovrebbe essere al sicuro dato che è stato l'acquisto del post-delite all'epoca invece quando Bonucci rinnovò fino al 2024 si disse c'è un delite da far crescere quindi cambiato il mondo anche lì c'è un Rugani che purtroppo ha avuto un'opzione in più perché il primo contratto di Rugani firmato scadeva 2023 quindi al termine di questa stagione giugno 2023 e invece no perché anche il contratto di Rugani scadrà nel 2024 quindi Bonucci e Rugani davano a scadenza insieme e Rugani dopo tanti anni alla Juventus credo che sia giunto il momento di salutarlo e di andare su un altro profilo che magari potrebbe essere preso proprio dallo stesso Bonucci di quel giocatore un po' come aveva fatto Chiellini che nelle gerarchie diventa l'ultimo perché è un giocatore con carisma con una storia ma anche tanti 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 anni perché da qui al 2025 sono altri tre anni Bonucci cosa avrà? Quasi una quarantina d'anni praticamente giunti al termine e l'altro è Gatti che spero possa essere valorizzato ma soprattutto spero che l'Eventus possa intervenire sul mercato e quindi sapere che c'è stato questo rinnovo mi fa anche pensare che il gruppo dei difensori centrali attualmente in rosa possa essere confermato anche l'anno prossimo a meno che non ci sia un'accessione e qua gli unici due potenziali bene o male per un'accessione e ovviamente parlo di un'accessione che ti porta del denaro fresco nelle casse può essere quella di Gatti magari chiuso alla Juventus con qualche società disposta ad investirci o quella di Bremer e mi auguro quindi che possa non avvenire e quindi dal punto di vista sportivo non ha senso dal punto di vista di gioco di leadership di presenze ha senso solo se Bonucci accetterà di diventare una riserva a tutti gli effetti ma conoscendo Bonucci e conoscendo anche un po' il modus operandi della Juventus questa cosa non avverrà perché Bonucci si sente e si sentirà importante ad ogni modo e quindi no non credo che Bonucci accetterà mai il ruolo di semplice comparsa o di capitano non giocatore quindi anche dal punto di vista delle presenze faccio un po' fatica a spiegarmelo proprio perché so che difficilmente riusciremo a vedere un Bonucci stile Chiellini dell'ultimo anno e cioè presente solo quando ci sarà bisogno e comunque Bonucci non è Chiellini sono due difensori diversi e Bonucci ha bisogno anche di qualcuno di forte al suo fianco proprio a livello di difensore invece Chiellini riusciva bene o male a giocare un po' con tutti e a prendersi un po' di più grazie alla sua leadership naturale tecnica cosa che Bonucci ha a parole ma Bonucci non mi sembra il giocatore ideale per fare questo tipo di ragionamento e in terza battuta c'è il discorso economico e sotto il punto di vista economico ha 100% senso rinnovare Bonucci perché tu vai a spalmare e gli dici io ti devo 6 milioni all'anno per due anni sono 12 milioni questi 12 milioni non te li do più in due anni te li do in tre e quindi quell'ingaggio da sé diventa quattro e quindi qui ha senso perché tu dai gli stessi soldi che dovevi a Bonucci in due anni ma gli dai in tre dall'altra parte voi direte ma perché mai dovrebbe accettare questa opzione beh perché se no semplicemente la Juventus potrebbe dire a Bonucci dato che l'anno prossimo va in scadenza quest'estate inizieremo a ragionare su qualche offerta che potrebbe arrivare per te anche da pochissimo o chiederemo al tuo procuratore di iniziare a guardarsi intorno perché abbiamo altri progetti o semplicemente perché Bonucci vuole cercare di terminare la stagione il più lontano possibile dalla Juventus e quindi lui stesso ha piacere nel fare un anno in più anche a costo di rinunciare a qualche milione di euro anche se stiamo parlando comunque di 6 milioni di euro perché viene spalmato o forse di meno perché magari da quei 12 in due anni magari diventeranno 15 in 3 ok quindi 5 quindi un milione in meno per ogni stagione però un anno in più quindi qualche soldino in meno ma un anno in più non 6 milioni in meno magari 2 3 4 in meno quindi dal punto di vista logico organizzativo e dal punto di vista economico questa è un'operazione super sensata dal punto di vista tecnico dal punto di vista di programmazione dal punto di vista di gestione del reparto per come la vedo io è un grande punto interrogativo anche perché personalmente non la ritengo una priorità cioè se penso alle priorità della Juventus questa assolutamente non è una priorità però la Juventus sta iniziando a ragionare su questi rinnovi e vediamo anche se qualche settimana fa poste sconfitta col Maccabi si era parlato di un Nedve dei Nonagnelli che parlavano al gruppo squadra e comunicavano l'interruzione di ogni discorso legato al rinnovo perché in questo momento non era giusto parlarne e quindi qual è la verità non lo so e ora cerchiamo di cambiare l'argomento ma prima di cambiare l'argomento io ragazzi vi ricordo di scaricare il numero 10 dal link che trovate qui sotto in descrizione applicazione completamente gratuita per la quale sto scrivendo articoli e creando contenuti e ovviamente ci sarà la possibilità di vincere anche qualche prodotto legato alla vostra squadra del cuore scaricate gratuitamente il numero 10 dal link qui sotto in descrizione sia per iOS sia per Android quindi non avete scusanti da questo punto di vista e proprio su numero 10 leggevo del test amichevole in famiglia con Federico Chiesa autore di una doppietta e questo è sicuramente una grande bella notizia aspettiamo Federico per un ritorno in campo terminiamo con un po' di polemica questo video dominicale perché ieri la Juventus tramite una nota ufficiale apparsa sul suo sito dice Leandro Paredes a seguito di un problema riferito al termine dell'allenamento odierno è stato sottoposto presso il J Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale alla coscia sinistra saranno necessari circa 15 giorni per il suo completo recupero e qui la mente torna a quel post che Di Maria aveva ricondiviso nelle sue IG stories sentite che pronuncia anglosassone nella quale etichettava come fake news la richiesta da parte della federazione argentina di una specie di permesso per appunto Paredes di Maria in occasione di Juventus Lazio del 13 novembre per permettere ai giocatori di aggregarsi prima appunto a ritorno nazionale e preparare al meglio il mondiale Di Maria pubblica quella cosa scrive fake news e oggi ci ritroviamo con Di Maria un Paredes out al 23 di ottobre quindi molto vicini appunto al 13 novembre e a quella partita che potrebbe essere saltata effettivamente dai due dico polemica perché ieri è circolata molto questa voce si è detto tanto si continuava a sottolineare il fatto che potessero essere infortuni farlocchi per io credo che una lesione sia difficile da simulare cioè Di Maria si è fatto male in campo l'abbiamo visto ha fatto un movimento anche abbastanza brutto che in diretta non mi era piaciuto Paredes è stato evidenziato una lesione quindi non è un infortunio che puoi fingere ci sono dei test ci sono dei macchinari vedono la lesione quindi non è un infortunio finto se poi siamo qui a dire che sicuramente non faranno i salti mortali per recuperare in tempo e delle due sceglieranno di saltare una partita in più con la Juve piuttosto che una in meno per evitare una ricaduta e rifarsi male in vista del mondiale io qua sono completamente d'accordo con voi secondo me Di Maria lo rivedremo nel 2023 cercherà di andare al piccolo trotto nel recupero e magari dire che non si sentirà pronto stessa cosa siccome funzionerà con Paredes quindi dovremo fare a meno dei due argentini da qui almeno almeno fino a quella sfida con la Lazio sicuramente con l'Inter non ci saranno poi se riusciranno a recuperare nei dieci giorni successivi e quindi fare anche l'ultimo o le ultime due adesso non ricordo la calendario quante sono vediamo ma ci credo davvero poco ci credo decisamente poco proprio perché immagino che in questo momento loro cercheranno di concentrarsi per recuperare dai rispettivi infortuni e piuttosto che dire vabbè sai mi faccio sti 90 minuti con la Juve perché hanno bisogno un altro po' di riposo un altro po' di tranquillità perché poi il mondiale non si gioca da solo e l'Argentina sicuramente l'opportunità di provare ad alzare poi come candidata la Coppa del Mondo dato che una finale qualche anno fa l'ha persa contro la Germania 1-0 gol di Mario Gosse tra l'altro Iguain aveva anche trovato il gol del vantaggio annullato per fuori gioco e Messi quest'anno probabilmente è al suo ultimo mondiale e vorrà cercare di rimanere ancora di più nella storia dell'Argentina dopo aver vinto comunque una Coppa vediamo dai ragazzi fatemi sapere un po' anche le vostre impressioni sul rinnovo di Bonucci sul rientro di Chiesa e sulla questione infortunati argentini e noi ci vediamo domani perché è già vigilia domani sarà già vigilia di Benfica e Juventus e ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri che commenteremo qui sul canale YouTube e